In questa puntata parleremo del progetto di mappatura della filiera e del convegno sul crowdfunding. Una mappatura della filiera per disegnare un quadro sulla situazione del tessile pratese, le competenze, macchinari, la capacità produttiva. L'indagine alla quale stanno lavorando UIP, Confartigianato, CNA e Camera di Commercio con la collaborazione della regione toscana è entrata nella fase operativa. Il progetto filiere è un lavoro conoscitivo per poter attuare politiche di sviluppo e rilancio del settore dopo la fase di analisi e progettazione al momento del coinvolgimento delle imprese, alle quali dalla prossima settimana verrà inviato un questionario da compilare. Le aziende saranno intervistate una ad una in maniera capillare. Le circa 3.600 imprese del distretto registrate come tessili sono state suddivise per specializzazione e quelle che non risultano più operative sono state escluse. Ad oggi risultano essere 2.300 le imprese che saranno coinvolte nel lavoro di mappatura. La Camera di Commercio accogliendo quelle che erano delle esigenze fatte sempre più pressanti e manifestate dalle associazioni di categoria ha ritenuto opportuno promuovere questa iniziativa e soprattutto rendersi partecipi in maniera attiva per poter capire bene qual è la situazione oggi del tessuto produttivo pratese. Sarà una inchiesta che servirà soprattutto a censire in maniera precisa e puntuale tutto quello che è l'attività, lo stato di fatto, lo stato di salute anche delle varie aziende del territorio. Per cui per la prima volta faremo una ricerca, che porterà ad avere un quadro chiaro, completo e soprattutto ben specifico in quanto ogni azienda riceverà un questionario e possibilmente successivamente se ci sarà bisogno di approfondimenti anche di una visita per poter fare il quadro esatto della situazione sia da un punto di vista di macchinari sia da un punto di vista di capacità produttiva e da un punto di vista di personale dipendente. Le prime alle quali sarà sottoposto il questionario sono le filature cardate, sono circa un centinaio quelle operative che saranno poi eseguite dalle tessiture che sono circa 600. Questa è una delle proposte che ci sono state avanzate da parte di Camera di Commercio e delle associazioni di categoria del territorio. Secondo noi è un aspetto estremamente interessante che può arricchire moltissimo sia la conoscenza del territorio del distretto e sia anche approfondire sulle potenzialità di maggiore costruzione di relazione fra le imprese produttive del distretto. Il crowdfunding raccolta di risorse economiche tramite la rete web per sviluppare nuove idee di business è in questi ultimi mesi al centro dell'attenzione. L'Italia sarà infatti il primo paese in Europa a regolamentare l'equity crowdfunding. La legge 221 del 2012 che ha convertito il decreto sviluppo bis ha introdotto questo strumento di credito per le start-up innovative previste anche nel regolamento della Commissione Europea assegnando alla Consub il compito di emanare la disciplina regolamentare di attuazione della norma con l'obiettivo di favorire l'accesso al pubblico risparmio tramite portali online osservando il warning delle European Securities and Markets Authority. Il seminario in programma a Firenze il prossimo 22 maggio intende offrire un momento di confronto sul crowdfunding e sulle sue potenzialità per supportare lo sviluppo di nuove idee e di nuove imprese con un particolare focus sulle start-up innovative e sulla nuova disciplina contenuta nella legge 221 del 2012. I lavori dopo le registrazioni cominceranno alle 9.30 con i saluti del Presidente della Camera di Commercio di Prato Luca Giusti la partecipazione al seminario è gratuita. Sono state approvate le nuove tariffe per il servizio di mediazione in un'ottica di promozione tra le imprese e tra coloro che potrebbero utilizzarlo come metodo di risoluzione delle controversie. Sempre in un'ottica promozionale fino al 30 settembre 2013 è prevista la gratuità delle spese di avvio in una serie particolare di situazioni tra le quali quando il tentativo di conciliazione è obbligatorio. È inoltre gratuito l'avvio della mediazione per le imprese femminili, per quelle giovanili e per le start-up innovative.